Ciao Mani, allora com'è? Ciao, buongiorno a tutti, siamo qua sulla Erta pronti per gli ultimi allenamenti prima della SeaWorld Cup Plan de Corona Scrumplatz le ragazze sono pronte sicuramente ho un po' di neve fresca oggi però condizioni sono buone e adesso andiamo in partenza e ci vediamo fra poco che c'è la sorpresa e seguiremo la Marta Bassino e andiamo a vedere chi sarà in pista stamattina Buongiorno a tutti, eccoci qua e adesso seguiremo la Marta live qua al Plan de Corona sulla Erta vale, seguiteci Grazie a tutti Grazie a tutti Ce l'abbiamo fatta, grande Marta Ti ho spruzzato Ciao Mani, allora come è stato a seguire la Marta scendendo la pista? Non è facile? Allora vi dico, non è facile vedremo di migliorarci un attimino per la gara comunque è un'esperienza nuova e spero che le immagini sientate belle ma ci vediamo per la World Cup Cronplatz qua a San Vigilio sulla Erta Ciao 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 Ciao